Signore e signori, buonasera. Siamo in un periodo particolare, quello della Settimana Santa. Di cosa parleremo? Parleremo di un evento spirituale, liturgico, veramente importante, che esiste da alcuni secoli ed è diventato qualcosa di universale per la grandezza e la profondità con cui viene vissuta da un'intera comunità. Però, come al nostro solito, ci facciamo anticipare da un breve video. Grazie. 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 incredibile avete visto un atteggiamento penitenziale da parte delle persone che fanno questa processione parliamo della settimana santa di sessa lunga una volta ducato di sessa sotto il regno di napoli e ne parliamo con chi come degli esponenti più importanti che sta raccogliendo in maniera che sta raccogliendo l'eredità che ormai nasce è nata secoli fa di questo evento che è veramente incredibile e parliamo con pasquale amo ciao pasquale come stai salve salve grazie per l'invito molto bene e spero altrettanto anche anche voi è sicuramente noi abbiamo già ospitato tuo fratello rosario per quanto riguarda trattevo da sessa io la mia cosa che gli chiesi pasquale se potevo fare l'intervista a te perché forse siamo delle poche persone delle poche persone che può spiegarci in maniera completa quello che quello che si fa è quello che ben come viene vissuto la storia di questa antichissima si può dire liturgia di questa antichissima settimana santa di sessa che ormai l'idea liturgici che paralidurgici sia e non è non è tua abitudine esporti come titolo però in questo caso bisogna farlo perché sei sei un priore dell'arci confraternita del santissimo croce fisso e prima di prima di dirci che cosa cosa sono queste confraternite e dobbiamo ricordare che tu con la tua col tuo movimento legato all'astronomia nella seconda edizione della boris veniste premiati e sei venuto a ritirare il premio e passiamo una giornata meravigliosa e ci dai ci hai dimostrato tutta la tua emozione come le emozioni nel ritirare col premio che era agli albori però gli hai dato nobilità perché c'è dato veramente una grande una grande prova di stima di amicizia e questa piccola parentesi era doverosa e adesso spiegaci prima di parlare cinistro che cosa sono queste le confraternite le arci confraternite di sessa o lungo innanzitutto ringrazio ancora per l'invito proverò nel mio piccolo a spiegare un po quello che accade durante la settimana santa innanzitutto cosa sono le confraternite sono degli enti ecclesiastici quindi delle istituzioni delle associazioni che vengono però costituite dall'autorità ecclesiastica che però hanno avuto nel caso di sessa o lungo un origine molto molto più indietro nel tempo quindi la più antica ad esempio l'arci confraternita di san piaggio è stata fondata nel 1513 la più giovane tra le confraternite si fa per dire eh è l'arci confraterne del santissimo rifugio che invece del 1758 quindi stiamo parlando di enti che hanno eh comunque più di 250 anni di storia e questo indubbiamente eh è un un elemento che va considerato eh sono enti che sono nati ehm in eh quindi in epoche diverse la maggior parte nella cosiddetta epoca contro riformistica quindi dopo il concilio di Trento eh in risposta dunque ad una eh esigenza che si faceva sempre più largo nella chiesa cattolica di un maggior coinvolgimento dei laici eh nella vita religiosa una vita religiosa che in quel periodo era sicuramente eh caratterizzata da eh una gran quantità di vocazioni soprattutto nell'ambito degli ordini religiosi e e quindi però questi ordini erano un po' delle enclavi erano un po' dei dei mondi a sé dove eh i monaci si rifugiavano a volte anche per motivazioni che non erano prettamente eh legate ad una vocazione religiosa ma ad esempio spesso anche per questioni di 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 famiglia no? Di 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 nobiltà eccetera. E quindi ehm arriva la la riforma del concilio di Trento che vede invece tra le sue principali eh finalità proprio quella di un maggior coinvolgimento dei laici eh e quindi cominciano a fiorire un po' dappertutto queste confraternire che in realtà esistevano già anche prima ma erano erano meno diffuse e ehm e questo avviene anche a Sessa avviene a Sessaurunca e ehm infatti delle sei confraternite attualmente esistenti ehm tre nascono a distanza di pochi anni eh l'una dall'altra c'è un fratennio del Santissimo Rosario nel 1573 quella che io rappresento quella del Santissimo Crocifisso nel 1577 e due anni dopo nel 1579 l'Arciconfraternia della Santissima Immacolata Concezione poi dopo ci sarà ancora la confraternita di San Carlo Borromeo nel 1613 e così via poi tutte la la l'ultima confraternita quella del Santissimo Rifugio quindi sono enti che oggi vengono definiti enti ecclesiastici perché oggi se fondiamo una se decidiamo di fondare una confraternita lo può fare soltanto eh lo si può fare solo tramite l'autorità ecclesiastica in passato invece questi enti nascevano dal punto di vista giuridico davanti ad un notaio e poi dopo ottenevano tutte le dovute autorizzazioni sia sul piano ecclesiastico sia sul piano civile con il cosiddetto reggio assenso che era una sorta di personalità giuridica antelitteram comunque Pasquale sì devo aggiungere questi enti sono tutti civilmente riconosciuti quindi sono enti che in virtù degli accordi e dei patti lateranenze hanno personalità giuridica anche di diritto civile e quindi oltre ad avere quella di diritto canonico e quindi praticamente sono enti che possiamo definire a metà strada tra le associazioni riconosciute quelle con personalità giuridica e gli enti appunto religiosi enti ecclesiastici eh quindi ritenevo opportuno fare questo questa precisazione sì Pasquale c'è da dire che quindi questa mh nasce in piena epoca della dell'impero dell'Espagna Napoli Spagnola quando ci fu la più anche la più grande la più grande evangelizzazione mondiale del cristianesimo per merito soprattutto di Siabella e Ferdinando quindi ci fu anche ci fu anche una forte spinta da questo punto di vista c'era proprio la voglia di evangelizzare il mondo intero non dimentichiamo a quel periodo eh sessa era centrale come Napoli dopo di Napoli era centrale di un impero che era stato il più grande della storia dove mai tramontava il sole come disse Filippo II quindi c'era questa fortissima vocazione questa grandissima voglia di evangelizzare e e queste tipi di. Certamente però nel caso specifico di sessa poi interviene anche un altro aspetto importante cioè eh appunto c'era stato un eh un po' di rilassamento diciamo così negli ambienti ecclesiastici eh a un certo punto arriva a sessa un vescovo eh senese eh che eh praticamente era addirittura di estrazione militare cioè precedenza era stato un militare prima di essere eh prima della vocazione prima di diventare vescovo e questo arriva a sessa indice due sinodi in pochissimi anni e decide di mettere un po' ordine nella vita religiosa della città di Sessa Unico ordinando tra l'altro agli ordini religiosi maschili di procedere a eh tutte le attività necessarie per coinvolgere maggiormente i laici ed infatti il tre delle sei confraternite attualmente esistenti vengono dal mondo dei ordini religiosi quindi sono state fondate proprio da ehm dagli ordini religiosi eh i domenicani e i francescani in particolare quindi ci sono diciamo nel caso della delle confraternite di Sessa anche degli aspetti legati poi più specificatamente a quello che accadeva nella chiesa locale. È una cosa che ti volevo chiedere ehm comunque erano questi tipi di 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 manifestazione settimana è stato un po' un comune a parecchi altri luoghi del regno di Napoli e dell'imperatore Spagna perché sono molto simili sono molto simili a queste sono nel nel Sivigliano eh poi nelle nostre vicine proci nella costiera Sorrentina Sorrento costiera Malfitana o mi sbaglio pure nel Salento in Sicilia. Allora eh quando si parla di settimana santa e di pratiche legate quindi alla pietà popolare del periodo della settimana santa le confraternite ovviamente hanno un ruolo eh centrale. Diciamo che nel corso della storia le confraternie nella prima fase si eh dedicavano soprattutto ad aspetti legati alla alla sepoltura dei 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 propri iscritti ma anche ad opere di pietà di della diciamo di misericordia ehm verso le persone un po' più povere e meno abbienti eccetera. Poi a un certo punto inizia anche l'attività di culto legata appunto alla pietà popolare io però sinceramente ho una mia idea e cioè che il ehm diciamo ehm questo tipo di manifestazioni eh hanno origini eh diciamo più nel nostro territorio eh appunto del sud Italia che non nel territorio spagnolo. Addirittura mi azzardo a dire che forse siano stati gli spagnoli ad essere influenzati dalle nostre forme rituali e non il contrario. Anche perché se noi esaminiamo attentamente mh alcune di queste tradizioni come ad esempio quella di Sessaurunca notiamo che le prime testimonianze storiche che attestano l'esistenza di questi rituali risalgono per l'appunto alla fase eh diciamo immediatamente precedente e poi alla fase diciamo iniziale della dominazione spagnola. Mentre invece se andiamo a guardare la storia delle processioni e delle manifestazioni di pietà popolare in Spagna vediamo che sono tutte successive a quelle eh diciamo di parli eh esempio abbiamo qui a Sessaurunca. Quindi io in qualche modo farei più dell'avviso che gli spagnoli quando arrivarono da noi trovarono terreno. Le adottarono? Le adottarono? Le adottarono? Le favorirono? Io credo che le favorirono, le favorirono, le finanziarono, le sostenerono anche dal punto di vista quindi economico queste iniziative e poi in qualche modo le mutuarono quando tornarono a casa. Quindi mutuarono queste forme rituali quando tornarono nelle nelle rispettive eh città spagnole. Ecco questo è una è una teoria che non ho solo io ecco che molti esperti eh stanno cominciando a sviluppare perché prima un po' subbligativamente si diceva sì abbiamo copiato gli spagnoli ma non è necessariamente così anche perché eh ci sono notevoli differenze tra le nostre eh modalità processionali ad esempio e quelle degli spagnoli eh quindi ma guarda guarda Pasquale eh io più che copiare io dico che sempre è stato un eh un interscambio di di tutto quando Napoli e il eh il regno di Napoli è sempre stato certo si è sempre interscambiato con tutte le dominazioni quindi è stato soltanto un interscambio assolutamente è ovvio che è stato un arricchimento reciproco quindi mi vuoi dire che alla fine eh la la settimana santa nasce forse nemmeno aragonese ma angioina ma io io credo che allora guarda diciamo che nel nostro territorio eh le prime manifestazioni di pietà popolare soprattutto in senso penitenziale risalgono al 1200 con i cosiddetti battenti eh ne abbiamo un esempio lampante in provincia di Caserta guardia San Framonti dove ogni sette anni ancora oggi si tiene si tengono i riti settennali per la la madonna dell'assunto oggi oggi è benevento guardia San Framonti ma una volta era terra di lavoro esatto quindi voglio dire guardia San Framonti è ancora addirittura i battenti ancora eh oggi nel duemila eh negli anni del duemila ancora oggi si battono il petto lo fanno una volta ogni sette anni ma è una processione davvero cruenta sotto certi versi per molti addirittura incomprensibile ma che invece ha un carattere penitenziale e storico eh straordinario quindi i primi i primi riti penitenziali addirittura ripeto hanno questa origine anche perché poi vedi quello che secondo me deve essere capito in queste forme rituali è che nessuna di queste ritualità nasce per caso nascono per un obiettivo ben preciso che era quello di accompagnare soprattutto l'esposizione del Santissimo Sacramento che era l'elemento centrale durante anche la settimana santa eh si va diffondendo un po' in tutto il meridione d'Italia la diciamo la la l'usanza di fare le cosiddette quarenta ore di adorazione solenni durante la settimana santa attorno a quello si cominciano a sviluppare poi forme devozionali che in parte hanno anche origini più antiche che sono mutuano quindi abitudini ancora più risalenti come ad esempio le cosiddette rogazioni che erano delle processori penitenziali che si facevano ehm in in determinati momenti dell'anno per chiedere ad esempio delle grazie in particolare in particolari momenti di calamità e si sviluppa così lentamente il movimento poi della nell'ambito del movimento confraternale la si sviluppano queste forme legate alla pietà popolare guarda Pasquale io sono stato l'ultima volta sono stato a Guardia San Framonti è qualcosa di incredibile e là qualcuno lì mi hanno anche spiegato una cosa però che praticamente è dal dopoguerra eh no non so se dal dopoguerra o comunque di recente che lo fanno ogni sette anni perché prima quelle processioni penitenziali seguendo quello che tu hai detto poc'anzi venivano fatte quando c'era quando c'era un periodo di carestia di non di abbondanza quando c'era un po' di destilenza si faceva questa processione penitenziale quindi poteva capitare anche che non la facevi per cinquant'anni capito? Ma infatti vedi Claudio noi abbiamo assistito in questi ultimi due anni ad un fenomeno estremamente strano e tengo a precisare questo fatto cioè la maggior parte di queste manifestazioni di pietà popolare di processioni sono nate proprio in conseguenza di eventi drammatici in risposta ad eventi drammatici cioè il popolo invocava l'aiuto eh del dei dei propri santi protettori oppure delle proprie eh delle 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 madonne del del insomma in momenti di particolare gravità che potevano essere terremoti ma soprattutto pestilenze la maggior parte di queste persone nasce nella in in concomitanza con delle pestilenze stranamente stavolta invece in concomitanza con una pestilenza eh quella appunto del covid di diciannove queste ritualità sono state completamente sospese quindi c'è stata ovviamente giustificatamente una reazione da parte eh del del delle autorità sia civili che religiose che hanno bloccato queste manifestazioni che però in realtà in passato erano proprio in nascevano in risposta a delle pestilenze. Oddio Pasquale parlare di pestilenza in questi minuti e due anni mi sembra un po' esagerato perché non è stata l'ebola il covid eh? diciamo in senso io io non sono un esperto di questioni mediche ma nel senso che in passato ecco queste processioni avvenivano dopo la peste dopo le epidemie di tifo epidemie allora venivano creare queste eh manifestazioni di pietà popolare oppure in concomitanza con eventi meteorologici eh o naturali particolarmente gravi le carestie per esempio erano una una di queste eh quando c'era una carestia e si invocava l'aiuto del signore per favorire la ripresa delle delle piogge e si facevano le cosiddette erogazioni e poi anche dalle erogazioni diventano processioni quindi mh in qualche modo l'origine è quella eh quindi ma sono un mix di sviluppi legati sia a vecchie ritualità del passato che poi in epoca contro riformistica cominciano ad assumere le forme che conosciamo oggi quindi subiscono delle evoluzioni verso forme che conosciamo oggi nel caso di sessa poi più specificatamente queste manifestazioni nascono come rappresentazioni viventi di momenti forti eh del dei momenti particolari del del della Bibbia ad esempio oppure di momenti della vita di Gesù che poi ad un certo punto vengono a trasformarsi in processioni quindi le immagini i diciamo i figuranti vengono sostituiti con le statue sì ti ripeto il fatto che non ci sia stato ci sia stata una sospensione in questi due anni poi dopo ci dirai se quest'anno si farà ancora eh a me mi ha lasciato molto sorpreso onestamente eh perché eh Claudio c'erano sicuramente le le motivazioni eh quindi lungi da me io ho voluto soltanto dire che non è che voglio dire che sia stato un errore sospendere delle processioni anzi era era un provvedimento doveroso soprattutto ho solo detto che mi ha lasciato ho solo detto era era è strano che proprio in concomitanza con una pestilenza queste manifestazioni che invece in passato servivano proprio a a scongiurare i pericoli siano state sospese ma sono cambiati anche i tempi ovviamente sì diciamo quest'anno speriamo di siamo siamo fiduciosi nel senso che eh ad oggi le processioni eh la settimana santa eh è confermata avrà luogo salvo eh ovviamente diverso avviso delle autorità eh civili ma allo Stato sembra proprio di sì io chiudo benissimo questa parentesi forse perché il mondo prima non era non era ancora invaso dal nichilismo però eh personalmente io non voglio fare polemiche sono rimasto sorpreso perché mai come questa in questi due anni c'era bisogno di poterle fare hanno deciso di no i tempi sono cambiati però andiamo oltre tanto perché tanto alla fine se non rischiamo di di fare polemiche che poi poi ce lo diciamo in privato ma senti Pasquale volevo un attimo concentrarmi sulla questione delle delle confraterne tu sei anche un avvocato ma le confraterne facevano pure quindi avevano eh erano anche oggetto di a parte e facevano pure opere di carità sì ancora oggi ancora oggi opere di carità eh ma è anche oggetto di di proprietà che venivano donate gestivano delle dei beni sì e infatti a un certo punto poi le confraternite cominciano a divenire eh degli enti sempre più organizzati eh un po' simili a quelle che potremmo definire le fondazioni eh diciamo di oggi o gli enti del terzo settore di oggi eh infatti per esempio la confraternita che io rappresento fonda poi dopo circa 50 anni nel 1633 una congregazione si chiama Monte dei Morti che aveva proprio lo scopo che tra l'altro è tuttora esistente a tuttora è tuttora in vita ecco questo monte cosa faceva ma come il nostro tantissimi altri no? Eh riceveva eh denaro tra parentesi dai propri iscritti eh che versavano delle quote o in un'unica soluzione oppure nel corso della vita eh con diciamo dei dei pagamenti annuali e poi quando eh il confratello veniva a mancare eh gli garantiva questa iscrizione a questo monte i cosiddetti suffraggi per l'eternità era un'epoca storica in cui eh c'era si dava molta molta importanza appunto ai suffraggi quindi tutti volevano accaparrarsi non soltanto il posto tra virgolette eh dove andare seppellito ma in questo senso le confraternite eh erano eh diciamo eh già in passato già in precedenza erano eh dei punti di riferimento perché avevano delle cappelle dove seppellivano i propri iscritti ma anche il eh diciamo il posto in paradiso che veniva in qualche modo conquistato tramite eh questi eh suffraggi che consistevano poi in messe cantate che venivano applicate per le anime di questi defunti. In questo modo cominciavano ad affluire nelle casse delle confraternite grandi somme di denaro che venivano poi reinvestite nell'acquisto di beni immobili che a loro volta venivano poi concessi in eh locazione eh a eh persone eh meno abbienti e e così diciamo l'economia girava. Eh poi col tempo dopo appunto la eh la breccia di portapia la maggior parte di questi beni sono stati incamerati dallo stato eh italiano oppure sono eh andati eh diciamo a finire nelle mani dei di coloro che li conducevano perché eh la maggior parte dei contratti sono stati trasformati in una forma particolare che si chiama infiteusi che ormai è una forma diciamo di locazione eh desueta che oggi nessuno più fa ma che all'epoca invece risultava molto diffusa ma questa infideusi a un certo punto viene colpita dal da da una modifica eh che per cui chi eh aveva diciamo in mano questi terreni infideusi poteva pagando venti canoni tutti insieme riscattarne la proprietà e diventare proprietario e così praticamente la maggior parte dei beni delle confraternite sono passati nelle mani dei 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 superamento del feudalesimo no? E diciamo è finita la maggior parte del di questi beni sono finiti però è pur vero che le confraterne hanno mantenuto qualcosa eh hanno mantenuto dei beni ce ne sono alcune che hanno anche insomma delle eh dei dei cospicui patrimoni ma il patrimonio secondo me più importante non è tanto quello immobiliare eh o eh diciamo finanziario quanto il patrimonio storico e artistico perché le confraternite sono proprietari di cappelle di chiese che sono delle vere e proprie eh opere d'arte nel caso di Sessaurunga appunto abbiamo chiese straordinarie che sono eh nelle nella proprietà delle confraternite come la chiesa di San Giovanni a Villa che è della mia confraternita oppure la chiesa di San Carlo Borromeo che è davvero eh molto molto interessante oppure la cappella ad esempio del Santissimo Rosario sono chiese bellissime che sono mantenute eh dalle confraternite sono di proprietà delle confraternite che ne curano la valorizzazione il restauro eh quindi insomma un'opera meritoria in aggiunta a quella che ancora oggi facciamo di aiutare le persone in difficoltà facendolo silenziosamente come giusto che sia. Eh no sì eh la caratteristica del cattolico di noi cattolici è che quello che fa la mano destra non deve non deve sapere la mano sinistra no? A differenza dei protestanti e dei calvinisti insomma qualcosa di buono noi ci abbiamo in questo voglio chiudere il discorso dei confraternite ehm vabbè io vado in giro dicendo che sono cattolico apostolico romano quindi penso quindi ancora lo dico in questo modo la gente mi guarda in faccia e ride c'è a te scusa perché ridi? Io sono cattolico apostolico romano ti voglio chiedere una cosa e chiudiamo il discorso dei confraternite che è stato molto importante quindi loro gestivano soprattutto immobili che era terrenica eh ma ma avevano anche un peso politico non da poco nelle comunità eh quindi pure perché io vado in giro sono stato pure a scurgo a tutto il regno di Napoli le confraternite erano piene sono piene ancora e ma avevano anche un peso politico però importante nella gestione della comunità. Io posso dire una cosa eh allora le confraternite erano spesso connotate da eh diciamo da dal fatto di essere composte da persone afferenti alla stessa classe sociale quindi c'era la confraternita dei nobili c'era la confraternita magari del delle persone invece più eh del ceto diciamo medio e poi quello del delle persone invece del tra virgolette del proletariato dell'epoca. Eh è ovvio che nell'ambito di queste confraternite soprattutto le confraternite dei nobili quindi quelle che erano composte da persone un po' più importanti un po' più rappresentative ci potesse essere anche un riscontro eh diciamo di natura politica non peraltro perché comunque queste confraternite erano composte da tante persone che quindi in qualche modo poi con le proprie famiglie rappresentavano anche una forza sotto questo aspetto però ti posso dire che oggi nel nell'epoca moderna non è assolutamente più così anzi la politica è bandita assolutamente bandita dalle nostre dalle nostre confraterne. No per carità eh scusami una piccola parentesi ma se essere pure sete di quattro sedili o mi sbaglio? Eh guarda non sono un esperto di storia ma mi sembra che erano tre se non vado errato tre sedili e non era una cosa da poco avere tre sedili eh voleva significare avere un tu lo sai che parlo sempre di educato di sessa vuol dire avere avuto un potere politico economico non da poco nel panorama mondiale perché quando tu eri regno di quando tu eri imperio delle Spagne eh sessa era tra Roma e Napoli ed era ed era tra i centri più importanti al mondo dopo dopo Napoli e dopo Roma quindi due tre sedili sono tanti comunque abbiamo fatto questa piccola parentesi no ci tenevo il fatto delle confraterne deve anche per capire come funzionava anche il mondo passato perché molte volte uno parla sempre del presente ma dimentica come funzionava ed era e non è che poi funzionava così male dai questo volevo far sì ma io io mi permetto di dire che forse in passato chi apparteneva a queste confraternite dava più importanza a quello che poteva avere in cambio dalla confraternita rispetto ad oggi cioè oggi il confratello deve invece dare più il suo contributo eh di quanto invece ne possa avere dalla confraternita eh all'epoca si entrava in confraternia anche per garantirsi non soltanto il posto eh diciamo tra virgolette dove essere seppellito ma anche appunto per i suffraggi per avere aiuti economici se se ad esempio le cosiddette doti maritaggi no che venivano date alle figlie dei confratelli per avere magari un terreno in affitto a un prezzo migliore quindi c'era anche secondo me una finalità tra virgolette non molto cattolica non molto eh diciamo cristiana dietro a questo tipo di appartenenze bisogna non bisogna essere ipocriti nel negare questa questa cosa oggi nelle confraternie non voglio dire che sia tutto perfetto nella maniera più assoluta ancora oggi c'è chi entra magari attirato più dalle forme cultuali o devozionali specifiche però certamente queste diciamo questa appartenenza più eh diciamo utilitaristica ecco diciamo così non non c'è più perché oggi è vero che le confraternie hanno ancora delle cappelle dove poter seppellire i confratelli ma sono pochissimi che perché ormai tutti hanno il proprio la propria diciamo eh cappella personale o preferiscono andare in altri posti quindi l'aspetto del del dell'ultimo viaggio tra virgolette è diventato secondario almeno per le confratelle di Sessa Centro l'aspetto cultuale invece è quello centrale e qui sicuramente i confratelli oggi si impegnano fanno un percorso di formazione partecipano anche anche direttamente ad attività socio assistenziali faccio un esempio noi nella nostra chiesa di San Giovanni a Villa stiamo facendo dei piccoli interventi di di recupero di manutenzione e che i confratelli vengono fanno la manutenzione alla chiesa eh si mettono lì ognuno fa quello che sa fare chi sa aggiustare l'impianto elettrico aggiustare l'impianto elettrico chi sa fare un'altra cosa fa un'altra cosa poi diciamo no è molto bello questo quindi forse secondo me anche l'aspetto oltre quello culturale c'è quello sacro quello è quello centrale qui i confratelli si preparano fanno un percorso cioè la gente immagina che noi ci incontriamo il venerdì santo pomeriggio ci diamo una pacca sulla spalla e facciamo la processione non è così dietro alle processioni che sono solo la punta dell'iceberg di una cultualità che dura trecentosessantacinque giorni l'anno c'è un percorso di preparazione che noi confratelli facciamo sotto la guida dei nostri cappellani e con il coordinamento e la paterna eh diciamo eh supervisione del nostro vescovo e quindi noi facciamo questo percorso che poi ovviamente sublima nei riti della settimana santa ma che non si esaurisce solo in quei riti lì a 360 giorni l'anno ma diciamo c'è anche devo dire che anche bello eh non lo dico come un aspetto negativo anzi positivo anche il fatto di di avere un prestigio di far parte di una confraternale che non è una cosa sbagliare questo è il senso identitario che è un altro elemento nobile molto aristocratico di questo sentimento guarda l'identità è fondamentale per far parte di queste mille a noi mille a noi senti prima di fare la settimana santa a parlare dello specifico mi hai fatto venire in mente ma in passato so che in questi secoli quindi parliamo di a questo punto di tutta la vita del regno di Napoli perché si inizia nel mille due ehm non c'era mai un rapporto eccezionale tra le c'erano pure spesso dei contrasti tra il vescovo e le confraternete o mi sbaglio ma guarda eh quello che posso dire è che il rapporto tra clero e confraternite è stato sempre un rapporto complicato diciamo così eh in passato eh oggi le cose sono diverse sì sì oggi lo so che sono diverse eh in passato è stato sempre un rapporto complicato anche perché in qualche modo il clero vedeva in questi enti un pericoloso eh diciamo in questi enti che poi tra l'altro in passato aveva contribuito a formare a fondare eh vedeva un a un certo punto una deriva pericolosa che avrebbe ma in qualche modo ci vedevano come dei concorrenti no? Che potevano eh distogliere i fedeli magari dalle attività delle delle chiese delle parrocchie eh per portarli poi nelle chiese delle confraternite quindi certamente ci sono stati in passato dei contrasti eh spesso anche giusti e motivati da parte cioè le le preoccupazioni della della curia la preoccupazione delle delle chiese delle delle diocesi era dei vescovi erano anche giustificate in alcuni casi perché spesso i vescovi vedevano eh percepivano in queste confraternite più un fine utilitaristico che un fine eh diciamo religioso e quindi cercavano di intervenire con delle riforme che magari non venivano ben digerite da dai componenti delle confraternite stesse quindi perciò dico il rapporto è stato sempre complicato in passato oggi per fortuna non è più così oggi eh noi siamo ecclesiali a tutti gli effetti facciamo parte della chiesa siamo eh completamente eh diciamo allineati eh con le attività delle parrocchie con le attività e siamo obbedienti in tutto e per tutto al nostro vescovo alla nostra guida nel territorio come giusto che sia. Senti Pasquale cominciamo adesso a parlare proprio della della settimana però la prima cosa che voglio chiedere la perché ehm in queste in queste processioni penitenziali in questa settimana santa c'è la caratteristica del staio nero e il cappuccio nero tipo che da noi da da noi perché io sono di sessa e nero in altri posti certe volte bianco e altri altri colori. Che cosa sa significare questo questo cappuccio nero? Allora il staio nero eh è solo una caratteristica della confraternita che io rappresento le altre cinque indossano un staio bianco con una mozzetta di colore diverso a seconda della confraternita quindi perché il colore nero nel nostro caso la risposta è semplice noi siamo la confraternita dedicata eh al al alla alla crocifissione e quindi alla morte di Gesù eh organizziamo i rituali penitenziali eh con i misteri della passione e morte di Gesù quindi il colore nero è assolutamente. E la caratteristica del cappuccio? Tutte le confraternite indossano il cappuccio non solo a sessa perché perché chi fa penitenza e chi fa parte di una confraternita fa sia riti penitenziali che riti non penitenziali ma quando si fanno i riti penitenziali non bisogna mostrare il proprio volto sempre nell'ambito del famoso precetto che hai richiamato poco anzi quindi eh portare il cappuccio abbassato è il segno della penitenza e del della penitenziali non è come non è come a guardia San Framonti che bisognava conservare conservare l'anonimato no? Ma guarda l'elemento dell'anonimato è legato alla penitenza è sempre la stessa cosa cioè chi fa penitenza non deve mostrare il proprio volto non lo dobbiamo fare noi non lo dovrebbero fare e perciò non lo fanno a guardia San Framonti la differenza è che però da noi alla fine poi eh gioco forza il cappuccio a un certo punto in alcuni tratti viene alzato anche perché portare sulle spalle il peso delle statue con il cappuccio abbassato è oggettivamente eh difficile di giorno è praticamente impossibile per esempio il sabato santo la sera del venerdì ci proviamo cerchiamo di portarlo abbassato per quasi tutta la processione ma in alcuni momenti è davvero necessario rifiatare oggi con la necessità di portare le mascherine forse le persone comprenderanno maggiormente queste esigenze di alzare il cappuccio cominciamo a parlare della settimana santa eh tu mi dicevi che eh in privato che io inizio il martedì però diciamo che l'ha dato un po' come inizia con la domenica delle palme li date una specie di 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 pre di preingresso nella settimana santa mi sbaglio ma guarda io devo dire eh questo lo dobbiamo precisare i riti della settimana santa giungono all'esito di un lungo percorso che è quello quaresimale che inizia addirittura col mercoledì delle ceneri la famosa funzione in cui viene cosparso il capo dei partecipanti con con le ceneri benedette quindi si parte da lì poi in tutti i venerdì di marzo quest'anno no perché c'è ancora lo stato d'emergenza quindi fino al 31 marzo i riti sono tutti sospesi però già dal primo aprile riprenderanno i riti anche quaresimali eh quindi dicevo nei venerdì di marzo vengono esposti nella chiesa di san giovanni a villa eh i misteri che poi comporranno il corteo processionale del venerdì santo si svolgono delle celebrazioni eh con il canto del miserere direttamente in in chiesa e poi eh durante la notte dei venerdì quaresimali nel centro storico di Sessaurunca eh si canta il miserere un po' dappertutto eh è un modo per avvisare la popolazione che la settimana santa si sta avvicinando poi nelle domeniche e nei venerdì ci sono le via crucis sia nelle chiese parrocchiali che in quelle delle confraternite e poi nelle dell'ultima settimana la settimana che precede la settimana santa eh venerdì e sabato di passione eh vengono esposte anche le statue che comporranno il corteo processionale del sabato santo quindi la la l'immagine della noi la chiamiamo la dolorata in realtà è una pietà dell'arce confraterne del Santissimo Rifugio che viene esposta il venerdì che precede la settimana santa e il mistero della deposizione chiamato poi più popolarmente mistero di San Carlo della omonima confraternita eh che viene esposto il sabato appunto che precede diciamo venerdì delle venerdì e sabato delle palme sì però già ti ripeto in tutti i venerdì di marzo ma in generale ci sono questi riti che precedono la settimana poi la domenica delle palme è un giorno tra virgolette eh comune a mh cioè a sessa non ci sono rituali particolari se non quelli che si svolgono in tutte le chiese della eh del del mondo cattolico eh e poi dal lunedì santo inizia la vera e propria settimana santa che ecco allora cominciamo al primo giorno lunedì che cosa succede il primo giorno guarda la settimana santa si può dividere in due fasi la prima fase va dal lunedì al mercoledì e poi la seconda fase eh il diciamo dal giovedì al sabato eh il lunedì il martedì e il mercoledì in questi tre giorni le sei confraternite cittadine si alternano nell'organizzare altrettante processioni penitenziali che partono dalle chiese madri delle delle sei confraternite eh e i confratelli vanno in cattedrale dove partecipano all'esposizione all'adorazione del Santissimo Sacramento che un tempo veniva esposto nelle cosiddette solenni quaranture eh proprio in questi primi tre giorni della della settimana santa quindi due processioni al giorno una al mattino e una al pomeriggio sia il lunedì sia il martedì che il mercoledì e il turno prevede il lunedì santo al mattino l'arci confraternia di San Biagio che ha l'onore di aprire perché la confraternita più antica e il pomeriggio invece la eh l'arci confraternia del Santissimo Rifugio che invece è la più giovane quindi è la seconda nel nell'ordine poi il martedì abbiamo l'arci confraternia del Santissimo Corosfizio quella che io rappresento al mattino al pomeriggio l'arci confraternia dell'Immacolata Concezione il mercoledì mattina abbiamo la confraternia di San Carlo Borromeo e a questo ciclo delle delle sei confraternita di San Carlo Borromeo per parlare poi di quello che accade mercoledì scusa perché non è comune soltanto alla alla settimana santo di sesso anch'io il suo amore la stance il pomeriggio che voglia un'abilità per una reale epoca di nostro, e peccato a creare un contramente senza sempre. Il visore peccato è un amato cuore dei veici, un di usificeris in zermonibus suvis, e trindas un miligaris. Eccere per il numeraticus soggettus suv, e che peccatis un soggetto in tempo, madre e mea. Eccere per i carri di quelli esistiti, incerte e troppo brutta sapenze due momenti stassi di un uomo. A caso del senso, avete il risultato, davanti si mette, e se non è un uomo, a un'impegno, a un'impegno, a un'impegno di mezza definizione. Ecco, avete visto questo brevissimo video, e parliamo dell'ufficio delle tenebre che mi hai fatto il mercoledì sera. Esatto. Spiegaci un po' che cos'è questo ufficio delle tenebre. Dopo pochi minuti dalla conclusione dell'ultima processione penitenziale, quella dell'Arce Confratenne del Santissimo Rosario, che ha luogo il mercoledì pomeriggio, e che proprio per questo inizia un po' prima rispetto alle altre come orario, c'è prima la Santa Messa Grismale in cattedrale, e al termine della Santa Messa Grismale, nella chiesa di San Giovanni a Villa, c'è questa funzione carica di misticismo, molto antica, dell'ufficio delle tenebre, in latino mattutinum tenebrarum. In cosa consiste? Allora, prima del concilio ecumenico Vaticano II, in tutti gli ordini religiosi e nelle basiliche principali, nel cosiddetto triduo di passione, nei tre giorni del triduo di passione, che erano mercoledì, giovedì e venerdì santo, veniva recitata la prima parte della liturgia delle ore, che solitamente recitano solamente i religiosi e quindi i presbiteri, veniva invece recitata con la presenza dei fedeli, quindi le chiese venivano aperte per consentire anche ai fedeli di partecipare alla prima parte della liturgia delle ore, il mattutino e le lodi. Questo perché? Perché in questi tre giorni appunto del triduo di passione, vi erano dei salmi molto belli, vi sono dei salmi molto belli che vengono ancora oggi da noi recitati, che praticamente avevano quindi, vedevano quindi anche la possibilità della partecipazione dei fedeli. Poi che cosa accade? Che dopo il concilio ecumenico Vaticano II questo rito viene modificato. D'altra parte, non so se molti di voi ricordano, forse quelli un po' più anziani, che prima appunto del concilio ecumenico Vaticano II, la Pasqua, diciamo, le campane venivano sciolte e si diceva che si scioglieva la gloria il sabato santo a mezzogiorno. Quindi oggi invece si aspetta la veglia pasquale, quindi si aspetta la notte tra il sabato santo e la domenica di Pasqua, quindi per fare quest'operazione e quindi il sabato santo fa tutti gli effetti ancora parte del triduo pasquale, quindi giovedì, venerdì e sabato santo, il triduo pasquale si apre con la messa in cena domini, la sera del giovedì santo e poi si conclude con la veglia appunto di Pasqua. Un tempo non era così e quindi c'erano queste funzioni dell'Ufficio delle Tempre, che popolarmente venivano chiamate terremoto, perché in pratica queste funzioni vedevano il popolo partecipare con un ruolo passivo, ma alla fine il popolo si prendeva la sua parte, perché le chiese venivano progressivamente oscurate, man a mano che si procedeva nella recita dei vari salmi, dei vari responsori, e alla fine simbolizzando la morte di Gesù la chiesa rimaneva completamente al buio e si riproduceva per pochi secondi il terremoto biblico che secondo la tradizione seguì alla morte di Gesù in croce. Questa funzione, ripeto, è un unico che si fa a Sessaurunca, ci sono pochissimi esempi ancora di questo tipo di rituale in Italia e nel mondo. Noi siamo forse quelli che manteniamo ancora inalterata la vecchia forma tradizionale, e il vecchio rituale, tra l'altro era quello che si diceva il Papa, tutto rigorosamente in latino, tutto rigorosamente in latino, è proprio il rituale tradizionale, quello più antico che veniva utilizzato dal Papa quando faceva questa funzione nella Basilica di San Pietro. Io l'ho vista un anno, purtroppo sono un anno che io abito l'Oddano, abito a Cassinio, ci vorrei stare tutte le sere in quella settimana, ma non mi è possibile per mille motivi oggettivi, ma ho visto che poi pure con il fatto di quelle candele che vengono spente, non mi sbaglio, che cosa rappresenta? Sì, c'è un candeliere che ha una forma particolare, ha la forma di una freccia, siccome in latino il termine freccia era sagitta, quindi noi la chiamiamo saetta, poi in dialetto diventa saetta, e praticamente questo candeliere rega su 15 candele di colore scuro che rappresentano, vengono spente mano a mano che la cerimonia procede, simboleggiando i vari tradimenti che Gesù subì durante i giorni della passione. Alla fine rimane accesa solo una candela, quella posta sul vertice, che rappresenta proprio Gesù, che però a un certo punto viene rimossa dal candeliere, viene nascosta per qualche minuto dietro l'altare, a simboleggiare la morte e la sepoltura di Gesù, che però poi dopo tre giorni risorge. Infatti a un certo punto poi tutte le luci si spengono, c'è il terremoto, ma quando questa candela ricompare da dietro l'altare, a simboleggiare la resurrezione di Gesù, si riaccendono le luci e la cerimonia è finita e termina con gli auguri di tutti i partecipanti che si salutano con il classico augurio dei peccentanti, noi lo diciamo così, cioè io ti auguro di rivivere per altri cento anni ancora questi stessi momenti. E questo è un augurio che viene ripetuto al termine di tutte le funzioni. Ma guarda che strano, io quando faccio gli auguri alle persone che conosco, mi viene spontaneo, mi ho detto una cosa che non... Io dico sempre augurone e peccentano ancora, lo dico sempre in maniera spontanea. Io devo dire che l'ho vista, quella volta che l'ho vista è molto toccante, molto particolare. Sì, è toccante perché poi viene, diciamo, questa funzione è caricata di grande misticismo da i canti. Cioè noi innanzitutto salmodiamo il latino con uno stile tipicamente gregoriano, ma poi ci sono i canti, ci sono le lamentazioni di Geremia Profeta, sono tre lamentazioni, tre trattati di Sant'Agostino, tre epistole di San Paolo e poi ci sono, e questi sono canti singoli, quindi che vengono eseguiti da confratelli che si tramandano questo diritto, diciamo, di padre e figlio. E poi ci sono i canti corali. Il miserere che questa volta è corale, non è come quello della processione di cui magari dirò qualcosa da poco. Poi dopo diremmo, diremmo, esatto. E poi invece, per il fisso delle termine, invece, il miserere viene cantato da tutti i confratelli insieme. E poi il benedictus, che è il canto in latino che fa da sottofondo anche alle processioni dei primi tre giorni della Settimana Santa. Infatti, diciamo, ho dimenticato di dire che quando le confraternite vanno dalla propria chiesa madre in cattedrale, cantano il benedictus in latino. Quando poi tornano, dopo aver partecipato all'esposizione del Santissimo, all'adorazione sacramentale, nella propria chiesa, cantano il tedeum, ma sempre rigorosamente in latino. Noi a stessa abbiamo mantenuto, fortunatamente, le vecchie tradizioni. Io sono molto legato alla tradizione. Vado ogni anno, quando posso, vado a Santa Maria Valogna a sentire la messa in Rito Tridentino da Don Norberto. E non manco mai al suffraggio al 16 di febbraio, dove c'è l'indulgenza plenaria che nasce nel 1139. Prima di giovedì, invece, tu mi dicevi che... Non è proprio una pausa, però diciamo che... Diciamo che oggi è una pausa. In passato non era così, perché in passato, fino al 1956, la processione che oggi si svolge il venerdì si faceva di giovedì. E quella che oggi si svolge di sabato si svolgeva il venerdì santo mattina. E c'è un motivo molto preciso per questo, perché queste processioni che rappresentano, appunto, raffigurano, rappresentano la morte e passione di nostro Signore Gesù Cristo, nascono proprio per condire, in qualche modo, istruire i fedeli durante il giro che veniva fatto il giovedì santo notte ai cosiddetti altari della Reposizione. Cioè, dopo la Santa Messa in Gena Domini, voi sapete, vengono presantificate le ostie che vengono messe nei tabernacoli per la funzione del venerdì santo, la liturgia in Passione Domini, durante la quale, come tutti voi, penso, saprete bene, non c'è la consacrazione. Quindi è l'unica funzione in cui non c'è la consacrazione. Si usano queste ostie che vengono presantificate il giorno precedente. E quindi questi altari dove, appunto, ci sono le ostie sacramentate venivano abbelliti con il grano che è simbolo della fecondità, con i fiori tipici del periodo primaverile, ma anche con simboli della passione, della vita di Gesù. E questi sono i cosiddetti sepolcri che si fanno dappertutto, non solo a Sessaurunca. In realtà il cristiano, il cattolico, doveva visitare questi altari nella sera del giovedì santo. Era un precetto. E quindi nel fare questo giro anche le confraternite facevano questo giro tra le chiese dove erano esposti i sepolcri, portandosi dietro anche le statue che permettevano ai fedeli così di riflettere sui vari momenti della passione e morte di Gesù. Perché in qualche modo queste processioni avevano una finalità, potremmo dire, fatemi passare il termine, quasi catechistica, cioè quella di dire alle persone vedete Gesù è andato nell'orto del Getsemane a pregare, poi è stato flagellato, poi è stato incoronato di spine e così via. In un'epoca in cui il livello culturale era anche molto basso, usare proprio anche le forme plastiche delle statue e ancora prima i figuranti in abito era un modo per arrivare facilmente, per veicolare facilmente il messaggio anche a chi aveva un livello diciamo di istruzione molto basso e che magari non riusciva a capire la messa in latino, la predica in latino che ovviamente richiedeva anche un livello culturale, non tutti riuscivano a capire quello che diceva il presbitero durante le funzioni. Io ho i miei dubbi che oggi siamo più acculturati, forse siamo più scolarizzati, ma credo che l'analfabetismo funzionale che ormai ci sta imprigionando soprattutto in Italia ci fa rimpiangere quei tempi e l'ignorante di una volta. Questo è il mio pensiero. Guarda, io proprio con questo ho parlato rivolto al passato. Senti Pasquale, prima di passare il video che precede il cludo della serata, ti voglio chiedere subito una cosa abbastanza pagana, ma futile. Perché il baccalafritto nel vero in distanza? Allora, diciamo che... Sembra stupida la domanda, però me la chiedono in tanti, io non lo so. È una domanda pertinente. Allora, perché il baccalafritto? Perché il venerdì non si mangia la carne. Il venerdì santo è prescritto il digiuno e l'astinenza. Oggi non tutti lo fanno, ovviamente, quindi comunque la carne non si poteva mangiare. E allora si usava a mangiare il pesce, ma oggi abbiamo la fortuna di andare nei discount, nei supermercati, nelle pescherie e trovare il pesce tutti i giorni. Prima non era così. La distribuzione, la cadena della distribuzione non funzionava come oggi, per cui forse nei centri dove c'erano i porti era facile trovare il pesce tutti i giorni, ma da noi non era così semplice. E allora si poteva attingere solo al pesce, tra virgolette, stoccato, no? Che veniva preparato e veniva, diciamo, utilizzato poi con il tempo. E quindi il baccalà, ecco, conservato, il baccalà era il, diciamo, il cibo più adatto, anche perché a buon mercato, saporito, che si poteva fare in mille varianti diverse, che, diciamo, soprattutto fritto è davvero divino e quindi chiaramente era un po' il, insieme con la pizza napoletana, pizza proprio quella classica con il pomodoro, eccetera, era un po' il cibo dei poveri, che veniva consumato nei venerdì in cui non si poteva mangiare la carne. Ma quindi era... Ho capito. E quindi, beh, oddio, una volta dei poveri ma compriamo il baccalà. Infatti, qua dobbiamo parlare sempre di volte al passato per dare un senso alle cose. Oggi non è più così, oggi forse costa di più della carne stessa. Va bene, Pasquale, faccio passare questo brevissimo video che anticipa la processione penitenziale del venerdì. nella connessione, non si può fare non si può fare se non trara ma come si può fare il venerdì, la carne stessa, la carne stessa, la carne stessa, la carne, la carne, la carne, la carne stessa, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. È stato un riferimento per noi, molte delle cose che io ti ho detto e che io so le ho apprese da lui. Grazie a tutti. 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 E poi quello simbolico è quello della catarsi, della purificazione, attraverso il fuoco c'è la purificazione, quindi un significato anche simbolico sicuramente non importante di quello pratico. Che poi c'è quasi sempre fatto con i fraschi d'olivo, quindi c'è quel profumo che è fattivo. Esatto, perché la frasca d'olivo essendo intrisa di olio, diciamo del liquido interno, prende fuoco subito, quindi è un fuoco istantaneo che divampa in pochi minuti, giusto il tempo proprio di far passare le statue e che lascia, oltre a colpire per questa maestosità, per le faville che vengono lanciate verso l'alto, ma inebbria anche un po' il senso dell'olfatto. Io ho sempre detto una cosa e lo ripeto, la processione del Venerdì Santo colpisce con tutti i sensi, ti colpisce con la vista per la bellezza delle immagini, delle statue, della coreografia e tutto, ti colpisce con l'udito perché per la bellezza dei canti e delle marcia fune, per il miserere è qualcosa di straordinario. Poi ne parliamo dopo, la miserere è qualcosa di colpisce anche con l'olfatto perché senti non soltanto l'odore del crepitare e del fuoco, ma anche delle candele, dell'incenso che viene portato dagli angioletti e perché no, anche del baccalà e delle pastiere che cominciano a essere preparate nelle case. Poi diciamo che questo percorso inizia alle sette e finisce a luna di notte. Luna e mezza. Luna e mezza. Sì, intorno all'una, dipende. E praticamente percorre tutto il famoso centro storico di Sessa. Sì, è un percorso che tocca praticamente tutte le chiese dove un tempo c'erano gli altari della reposizione. Che tocca tutti i punti importanti della città. Ci tocca i punti principali e poi i punti dove ci sono le chiese dove un tempo c'erano gli altari della reposizione, per quello che dicevo prima, che in realtà questa era una sorta di pellegrinaggio a tutti gli altari della reposizione che venivano predisposti nella notte del Giovedì Santo. Quindi il fuoco, adesso ci dovresti spiegare le statue, quante sono e ognuna che cosa rappresenta. Allora, le statue che portiamo in processione. Scusami, è l'origine, ognuno a che epoca risale. Allora, purtroppo sull'origine non posso dare una data precisa. Non abbiamo infatti una certezza di quando risalgono esattamente quelle che abbiamo oggi, ma certamente una cosa è sicura che dovrebbero essere precedenti al 1700. Quindi già probabilmente sono quelle proprio realizzate all'inizio di queste processioni, quindi verso la fine del 1500, o probabilmente in alcuni casi sono state restaurate, rimaneggiate, modificate in un secondo momento, ma l'immagine che rappresentano è quella. Lo sappiamo perché abbiamo dei segni all'interno della nostra chiesa, in una balaustra di marmo che si trova proprio di fronte all'altare, dove sono incastonati i segni che rappresentano i vari misteri. E questa balaustra risale al 1714, è datata. Fatta questa premessa, sono cinque statue, rappresentano cinque gruppi statuari, rappresentano i cinque momenti della passione e morte di Gesù. Quindi la prima strada rappresenta il primo mistero doloroso, Gesù che nell'orto del Getsemani prega dinanzi all'altare che ha l'angelo inviatogli dal padre che gli porge il calice. Poi c'è la scena della flagellazione, il secondo mistero. Il terzo mistero rappresenta invece la scena dell'ecceomo, quindi l'incoronazione di spine. Il quarto mistero rappresenta Gesù che durante l'ascesa al Calvario cade sotto il peso della croce. Poi c'è una grande croce che reca tutti i segni della passione. Il Cristo morto, quindi Gesù che viene adagiato su una sorta di barella, ma che in realtà è una bara, che viene portata a mano da quattro confratelli, e infine le tre marie che si trovano poi dietro alla scena, quindi la Madonna, Maria Maddalena e la sorella di Lazzaro, che viene praticamente resuscitato da Gesù, che sono le prime delle piedonne, perché poi dietro alle tre marie ci sono le alluttate, le donne che fanno il guto, che in qualche modo sono una sorta di continuazione proprio delle tre marie. Ho visto, io ormai, ripeto, dal 2007 non ne manco una, vi do pure la fortissima presenza femminile, è ovvio. Sì, queste candele enormi, che sono veramente... Sì, è una presenza silenziosa, ma molto forte, che poi è molto più forte il sabato santo. Sì, poi ce lo direi... Sì, è molto più forte, anche perché c'è una maggiore immedesimazione delle donne con il dolore della Vergine addolorata. Sì, poi dopo ce lo spiego, volevo chiederti un'altra cosa, poi c'è quello che ho notato, molte donne, anche le più anziane, alcune le fanno scalze, e mi è rimasto impresso un anno, 2009-2010, ci fu una pioggia abbattente, pure non la feci tutta, e mi meravigliai donne anziane più discalzi, che non si persero nemmeno un passo di quella processione. Quello che mi sorprende è che, nonostante c'è tanta gente, c'è un silenzio, si può dire, proprio penitenziale, veramente molto molto particolare. Adesso voglio far passare questo brevissimo video, per parlare di quello che ormai è diventato qualcosa di unico al mondo, ed ecco qua. Sì, 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 sì. Bene, avete visto questo canto di questi incappucciati? E parliamo del miserere, miserere che ormai è diventato qualcosa di misterioso, è misterioso, è unico, e spiegaci perché di questa particolarità di questo canto, che è qualcosa di incredibile per come viene fatto, in che lingua viene cantata e che cosa si dice. Allora, il miserere in sé è il più famoso dei salmi penitenziali, il salmo 50 di Davide, una preghiera antichissima, che viene scritta appunto da Davide, Davide praticamente chiede perdono al Signore per aver commesso un peccato molto grave, aver praticamente mandato a morte Uria, che era il suo generale, perché si era innamorato della moglie di Bezzabè, aveva commesso adulterio, avevano addirittura procreato, avevano diciamo concepito un figlio, e quindi manda a morte Uria per poterla così poi sposare, e quindi lavare questo peccato. A un certo punto però il profeta Natan contesta al re Davide questo gravissimo peccato, e a quel punto il re Davide si pente, e nasce così questo salmo straordinario, che nel corso del tempo è stato musicato da grandissimi interpreti, il più famoso è sicuramente il miserere di Allegri, che era talmente bello e talmente particolare, che veniva utilizzato solo durante le funzioni del Papa nella Basilica di San Pietro, e non poteva essere in alcun modo copiato appena di scomunica. Quindi la presenza del miserere nelle funzioni penitenziali non è certo una prerogativa solo di Sessa Orunca, un po' dappertutto, durante le processioni del Venerdì Santo, le processioni penitenziali si canta il miserere. E non quella che è in griglia, no? Ciò che connota il nostro canto è il modus in cui il canto viene eseguito. Viene eseguito tutto rigorosamente in latino, vengono eseguite solo le strofe dispari e ogni strofa viene suddivisa in cinque parti. A cantarlo sono tre confratelli che cantano con tre voci di tono diverso. Quindi abbiamo una voce alta, che viene chiamata prima voce, una voce mediana, che viene chiamata seconda voce, una voce più bassa, invece, che viene chiamata terza voce. I tre confratelli accostano le teste, quindi formano una sorta di ideale cappella e cantano dividendo ognuna delle strofe in cinque parti, come ho già precisato prima. Il testo viene in qualche modo, però, modulato in un modo talmente particolare che alla fine le tre voci si fondono insieme, diventando un tutt'uno, una sorta di voce di organo, noi così la definiamo, ricordiamo un po' il suono di un armonium, quando cantiamo, e le parole vengono quasi masticate, diventano per certi versi addirittura incomprensibili, anche perché viene cantato rigorosamente in latino, come un po' tutti gli altri canti di questa nostra settimana santa. Quello che è particolare di questo miserere è che questa modalità esecutiva esiste solo per il nostro miserere, esiste solo a sessa orunca ed esiste solo nell'ambito dell'Arciconfraterne del Santissimo Crucifisto. Cioè, viene utilizzata questa modalità solo nelle funzioni dei venerdì di marzo, nelle notti dei venerdì di guaresima e poi nella processione del venerdì santo. Quindi, faccio un esempio, in Sardegna c'è il cosiddetto canto a tenores, che tra l'altro è patrimonio dell'umanità, ma dovunque vai in Sardegna troverai delle, diciamo, esecuzioni fatte col canto a tenores, che viene utilizzato per qualsiasi tipo di canto, canti di festa, canti di lutto, canti di, diciamo, religiosi, canti profani. Invece, la modalità esecutiva del miserere vale solo per il miserere. La cosa più straordinaria è che lo puoi sentire solo venendo a sessa, solo venendo a sessa nei venerdì di marzo, nelle notti dei venerdì di quaresima o partecipando alla processione dei misteri. Perché al di fuori di questi eventi non è possibile ascoltarlo, non esiste una scuola dove poterlo imparare, si tramanda oralmente, non esistono dei manuali... Non è stato trascritto, quindi? No, non è... Cioè, ci sono stati degli studiosi che l'hanno trascritto, indubbiamente, ma viene tramandato oralmente, non c'è una scuola. Non è che lo puoi imparare semplicemente guardando uno spartito. Devi imparare, ma soprattutto devi amalgamarti con gli altri cantori. Devi avere delle doti vocali ben precise e poi tanto, tanto allenamento per arrivare ad avere un perfetto affiatamento con gli altri due componenti che canteranno con te. Quindi devi trovare anche due persone che hanno la tua stessa voce, che hanno il tuo stesso timbro e che quindi poi si possano ben fondere con la tua voce per raggiungere quella perfezione che poi è necessaria se vuoi cantare bene il miserere. Quindi tutto questo lo rende veramente un canto unico nel suo genere ed è questo che ci ha spinto anche a ritenere possibile di poterlo candidare come patrimonio, come bene immateriale della nazione italiana prima e poi speriamo di poterlo portare addirittura a livello internazionale come patrimonio UNESCO. Oddio, per il nostro signore non c'è bisogno che già lo è. Per gli uomini... Per gli uomini... Va bene, non è un problema. Per gli uomini... Se gli uomini vogliono pure loro accotarsi sono un bel lieto, ma l'importante è che sia veramente... Sia veramente il canto di nostro signore. E' un campo che è perfettamente inserito nella processione perché nella scuola è... E' raccapricciante, ma anche bellissimo. E' ipnotico. Esatto, sì. Io ho sempre detto che se accosti l'orecchio alle pietre del nostro centro storico e fai molta attenzione sentirai il miserere. No, no, è qualcosa che posso confermare. Pasquale, scusami, in quanti siete oggi a cantarlo il miserere? Allora, attualmente nella nostra confraternita ci sono circa sei tri diciamo affiatati, ma diciamo quelli che cantano poi di più sono tre tri. Ho capito. Ma viene... Quelli che cantano da più tempo. Ecco, quelli che cantano da più tempo. C'è continuità, no? Quindi ci viene tramandato. Gioveni che continuano ho visto tanti bambini pure, quindi... Ragazzi, ragazzi... Allora, in realtà questo è un canto che richiede una maturità vocale. Quindi devi... Diciamo il bambino non può. No, no, io sto dicendo in generale... Quando si arriva già alla tarda fase adolescenziale quindi si comincia a cambiare la voce, no? L'uomo cambia la voce a un certo punto raggiunge la sua maturità. A quel punto si può cominciare a capire qual è la propria tonalità e quindi da lì puoi cominciare a provare. Ovviamente bisogna essere intonati, bisogna avere una buona estensione vocale, un buon fiato anche perché è un canto che richiede anche molto fiato. E poi si comincia a provare. Se si ha la fortuna di trovare due voci simili nella confraternita si può cominciare a cantarlo. Non si canta solo nella nostra confraternia, nel senso che ci sono persone che lo sanno cantare anche non facendo parte della confraternia, però in quel caso non possono cantare durante i rituali della confraternia. Quindi non possono cantarlo in processione, non possono cantarlo nei venerdì di marzo perché lì cantano solamente i confraterniti. Ci sono delle regole ben precise qui. Sì, però per esempio nei venerdì guaresimali, nelle notti di guaresima, è facile ascoltare anche Miserere fatto da giovani tri che sono formati da ragazzi che non fanno parte. E' bello questo. Poi devo dire che in questo inverno demografico in cui si è messa l'Italia nel terzo millennio se essa è una delle poche realtà dove ci sono tanti giovani e questa è una cosa che veramente mi riempie il cuore ogni volta che ho perso. Sono affascinati dalle nostre tradizioni. Ma in generale, sì, sì. Non è difficile per noi tramandare le nostre tradizioni, anche se devo dire il Covid in questo senso non ci ha fatto bene perché questa lunga interruzione che ormai dura da tre anni perché l'ultima settimana santa risale al 2019 ha in qualche modo impedito a un'intera generazione di adolescenti di capire, di avvicinarsi, di innamorarsi delle nostre tradizioni. Quindi speriamo di cuore di ripartire perché altrimenti poi sarà davvero difficile recuperare. No, ma non ti preoccupare che è troppo legato è molto identitaria. Io la chiamo la piccola Napoli anche nella sua modo di fare, di essere. È molto, molto forte radicata nel suo passato che lo trasferisce nel futuro. Un altro paio di cose ti concedo perché io qua starei ora da farti queste domande però il tempo passa. Volevo dirti una cosa personale. Ho visto che ormai è diventato anche un fenomeno turistico. Quando è che... è un fenomeno turistico che quando è che vi piace? Cioè, è una cosa bella da un lato ma dall'altra forse non è che siete poi così entusiasti di questo assembramento che c'è a prescindere. Come lo giudichi? Guarda, innanzitutto è una cosa normale. È un rito così particolare. È chiaro, attira l'attenzione da parte di tante persone. è più... Poi è chiaro che con i social network, con le televisioni, i passaggi televisivi, le pubblicazioni e tutto il resto è chiaro l'interesse e l'attenzione aumenta. Se noi guardiamo video fotografie delle processioni degli anni 60 o degli anni 70 e anche precedenti vedremo che c'erano solo persone di sessa. Oggi invece c'è una grandissima quantità di persone che arrivano un po' dappertutto anche dall'estero, dalle località più lontane per venire a seguire le nostre funzioni. Questo umanamente ci fa piacere, ci lusinga come confraterli ma anche come cittadini di sessa urunca. L'unica cosa è che sarebbe auspicabile che chi viene a partecipare ai nostri rituali rispetti anche un po' le nostre regole nel senso che partecipare sì però senza dar fastidio durante il rituale quindi a volte ad esempio diventa difficile per noi perché magari stiamo cantando il miserere ci troviamo persone che ci sparano negli occhi flash a distanza di pochi centimetri perché devono fare le fotografie oppure che magari ti intralciano nei tuoi passaggi quindi ma sono effetti collaterali inevitabili di questa globalizzazione mediatica che c'è oggi quindi alla fine è un effetto è un bel effetto collaterale dai perché sicuramente sì perché tra l'altro fa bene anche all'economia del nostro paese perché poi tante persone che arrivano a stessa per la processione se ne innamorano anche per la bellezza della nostra città dei suoi monumenti e tornano dopo a visitarla con calma a venire a vederla magari a passare le vacanze qui e quindi questo è indiscutibilmente una cosa stessa è un gioiello è una perla è una santa è il volano secondo me di sviluppo può essere volano di sviluppo poi accogliente poi il clima dove battono i 720 non ci sta quindi vabbè è un posto particolare mistico molto e quindi poi arriviamo il giorno dopo dopo a l'una e mezza giorno dopo c'è il sabato che cos'è che cosa avviene il sabato allora la processione del venerdì termina all'una e mezza di notte subito dopo la processione c'è la serenata all'addolorata davanti alla chiesa del Santissimo Rifugio dopodiché poche ore di riposo che devo dire la verità servono a ben poco perché siamo talmente stanchi che neanche ce ne accorgiamo di quelle 3-4 ore di sonno che ci rimangono e già alle 7 del mattino la città è di nuovo in fervente attività per la processione del sabato che inizia alle 7 e mezza dalla chiesa del Santissimo Rifugio parte la l'addolorata che comincia a scendere attraverso Corso Lucilio e incontra di fronte all'incrocio con Via Mozart il mistero della deposizione di Gesù dalla Croce che invece esce alle 8 dalla chiesa di San Carlo Borromeo come ho già detto questi due gruppi statuari sono di due confraternie diverse il gruppo della deposizione rappresenta appunto Gesù che viene deposto dalla Croce da Darimatea Nicotemo con la Vergine e Maria Maddalena e Giovanni l'Apostolo ai piedi della Croce ed è di proprietà dell'Arcifraternia del San Carlo Borromeo che ha sede nell'omonima chiesa mentre l'altra statua rappresenta la scena della pietà quindi l'addolorata che ha in in grembo il corpo ormai esanime di Gesù che è stato appena deposto dalla Croce ed è di proprietà dell'Arcifraternia il Santissimo Rifugio che ha sede anch'essa nell'omonima chiesa le due statue a un certo punto si incontrano dando vinta ad un momento molto bello della settimana santa proprio il cosiddetto incontro cioè a un certo punto le due statue si guardano l'un l'altra si avvicinano quasi a toccarsi e poi dopodiché si riallontanano la statua di San Carlo Borromeo si gira su se stessa e comincia il percorso che è lo stesso della processione del del venerdì santo che cosa distingue queste due processioni beh innanzitutto come ho già detto la processione del sabato è un po' più recente rispetto a quella del venerdì ma recente per modo di dire perché nasce all'incirca torna al 1763 64 quindi comunque ha più di 250 anni di storia la processione non ha il sottofondo del miserere questa forza è la caratteristica più importante quindi l'unico sottofondo oltre alle preghiere dei partecipanti sono le marce funebri c'è però la cunnulella il percorso è lo stesso ovviamente non ci sono neanche i fuochi perché la processione si svolge di giorno quindi non c'è bisogno di illuminare il percorso ma c'è una fortissima massiccia presenza di donne alluttate che come dicevo già in precedenza forse si immedesimano maggiormente nel mistero appunto dell'addolorata e quindi fanno il voto appunto alla Madonna addolorata quindi c'è una proprio una presenza fortissima di donne con quindi sono visto che c'è l'incrocio ci sono due processioni giusto? una da sopra una da sotto allora in origine in origine erano proprio due processioni separate e anzi era assolutamente vietato che si incontrassero se si incontravano le due statue non era una cosa positiva a stessa si diceva che finiva il mondo perché quando si diceva è finito il mondo vuol dire che finiva male finiva poteva finire anche diciamo alle mani perché le due confraternite erano entrambe confraternite fatte da persone appartenenti al ceto più basso che diciamo non andavano particolarmente d'accordo fra di loro poi a un certo punto nel 1967 l'allora vescovo con signor Vittorio Marei Costantini con un intervento devo dire davvero utilissimo ha deciso di unificare le due processioni così bloccando per sempre questa antica rivalità tra le due confraternite che invece oggi collaborano e hanno ottimi rapporti e da allora è nato un unico grande corteo processionale che però per motivi evidentemente logistici parte da due chiese diverse e poi le due processioni si incontrano e diventano un unico corteo processionale quando poi si ritira la Madonna addolorata il mistero della deposizione per circa un'altra mezz'ora prosegue da solo fino poi a ritornare nella sua chiesa di San Carlo Borromeo ma per il 90% della processione è una processione unica fatta dai due gruppi c'è la cunulella ci sono i portatori delle due confraternite con l'abito come noi non abbassano il cappuccio perché di giorno con il peso di queste statue sulle spalle non è davvero facile e poi tra l'altro mentre noi il venerdì portiamo il mistero in quattro loro invece lo portano in 24 persone quindi ognuna delle due statue è portata da 24 portatori perché sono molto più grandi e quindi anche molto più pesanti quindi si sapevo di questo fatto che spesso finivano alle mani perché pure si beveva durante le processioni che erano più lunghe ma si beveva anche il venerdì erano delle generazioni che purtroppo sono cominciate soprattutto dopo il periodo fascista perché ci furono delle intromissioni delle confraterne di persone che non erano spinte da una fede autentica ma da altre motivazioni quindi cominciarono delle degenerazioni che poi purtroppo portarono a delle decisioni anche abbastanza pesanti negli anni 60 del secolo scorso da parte di Monsignor Costantini che però poi dopo negli anni 80 portarono a una riforma migliorativa di queste processioni che oggi secondo me sono molto più coerenti con quelle che erano le finalità di chi le ha create e le ha inventate e quindi le processioni oggi sono davvero atti devozionali poi c'è anche chi partecipa magari per altre ragioni ma la maggior parte delle persone lo fa per fede per io vedo molti rituali del 600 del 500 della della grande stagione del cattolicesimo Pasquale niente siamo quasi in chiusura quindi diciamo che il sabato qui diciamo che finisce il sabato la settimana santa la processione finisce alle due due e mezza del pomeriggio qualche volta anche alle tre noi i sessani ci salutiamo non più con il peccendanni ma con buone feste fatte perché per noi è come se fosse finita lì la cosa in realtà poi non è così perché poi c'è la verità pasquale c'è la Pasqua che ovviamente dà un senso a tutta la settimana santa perché diciamolo chiaramente senza la resurrezione la settimana santa non avrebbe senso sarebbe solo una presentazione però è comune come le altre Pasqua di tutti gli altri posti sì è comune però noi a sesso non ci facciamo mancare niente perché non appena finisce la settimana santa inizia la festa patronale la festa dei santi padroni la Madonna del Popolo e San Leone Nono che anche questa ha origini antichissime documentate già dall'inizio del 1600 e praticamente che cosa accade che già la domenica di Pasqua prima della della messa pontificale insomma la messa principale del in cattedrale vengono esposte queste due statue il busto di San Leone Nono e questo quadro meraviglioso eh del cardisco della Madonna del Popolo che viene montato in una grande macchina eh processionale e poi la mattina del lunedì in Albis quella che tutti chiamiamo Pasquetta eh la mattina appunto c'è questa processione eh dei santi padroni che eh dura tutta la diciamo la mattinata ecco mh e che attraversa lo stesso percorso giù di lì che viene attraversato dalle processioni dei del venerdì e del sabato ma è una processione di festa non è una processione penitenziale e quindi ha un tono diverso non ci sono le marce fune non c'è il miserere non c'è eh i fuochi non c'è la cunulella quindi è una processione eh diciamo di eh patronale ecco come normale normale è così come avvengono in tanti altri posti e poi dopo lunedì e anche il martedì c'è anche proprio la festa popolare che che chiude così il il cerchio bene Pasquale eh io avrei concluso qua eh ci hai regalato un'ora e mezza incredibili eh per chi ha voglia di cioè ci hai dato veramente una spiegazione a 360 gradi sono stato abbastanza incalzante e ti ringrazio per la tua pazienza ma dovevamo sapere molti i nostri spettatori vogliono sapere quello che accade e cosa c'è dietro questa meravigliosa settimana che non è soltanto la settimana santa eh perché eh c'è la c'è la morta la nascita è la risoluzione nostro signore Gesù Cristo ma anche perché assessa ha un sapore particolare cosa ci vuoi come ci puoi aiutare di questo invito e sono contento di aver parlato di queste cose perché ritengo che eh le persone invece hanno tutto il diritto di sapere di conoscere di retroscena anche di queste nostre processioni ma anche perché in questo modo forza la partecipazione diventa più cosciente più consapevole no? rispetto a a venire ad assistere ad un rito spettacolare per quanto possa essere bello però poi se lo vedi solo dal lato spettacolare perde la gran parte del suo significato quindi io ringrazio per questa occasione sono sempre lieto quando mi vengono fornite queste opportunità proprio perché ritengo che così si educa anche un po' la gente che viene da fuori a rispettare maggiormente questo rito a comprenderne le caratteristiche fermo restando che sono tutti benvenuti quando vengono da noi e poi mi lascio con l'auspicio di poter rivivere questi momenti anche quest'anno noi ci stiamo preparando stiamo lavorando tantissimo affinché tutto possa essere fatto con la massima sicurezza possibile ci sarà un protocollo di sicurezza che è stato che è in corso di preparazione con il sindaco con l'autorità di pubblica sicurezza per cui sarà possibile partecipare ai nostri rituali ma farlo in assoluta e totale sicurezza questo ci tengo a dirlo non siamo pazzi non siamo dei diciamo delle persone disposte a tutto pur di fare la tradizione la salute viene prima di ogni cosa però in questa fase endemica in cui è necessario imparare a convivere con questa malattia noi vogliamo fortemente dare un segnale di ripartenza un segnale di di fede forte di cui abbiamo bisogno in questi momenti anche così difficili per la crisi internazionale che è in atto è importante accostarsi ai propri valori riscoprire le proprie identità e tramandare alle nuove generazioni queste bellissime tradizioni hai detto giusto l'endemica quindi secondo me bisognerebbe anche un attimo allentare la presa perché è diventata endemica fa meno paura è inutile che siamo un po' troppo è arrivato il momento no ma poi ripeto ci sarà un protocollo di sicurezza studiato nei minimi dettagli che permetterà a tutti di poter partecipare a questo rituale con la massima sicurezza possibile veramente quindi potrò potrò farla quindi mi permetterete di farla integralmente come faccio ogni anno questa processione assolutamente sì sarai il benvenuto anche quest'anno ma figurati ho visto con quanto quanta devozione segui la nostra processione quindi sarai sicuramente il benvenuto io ti ringrazio Pasquale spero che sia stato bene con noi spero di poterti vedere presto e forse ti scoccerò speriamo di vederci venerdì santo quindi a breve abbraccio grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti